Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Lavoravano dieci ore al giorno nei campi di Pomodori per un euro all'ora e dormivano su letti di fortuna. Alcuni giovani braccianti hanno denunciato un 36enne pakistano che è stato arrestato dalla polizia. E' morto dopo una settimana in ospedale il 27enne di Curzi, Gianmarco Chilla. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito dopo un grave incidente sulla Statale 16, avvenuto all'alba del 14 agosto. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Divieto di accesso alla Grotta della Poesia di Roca La decisione del comune di Melendugno è scattata a causa dell'eccessivo numero di bagnanti che mettono a rischio la falesia. Sconcerto a Lecce per la vile aggressione che ha subito Francesco Un ragazzo disabile molto noto in città Per il suo amore per la musica e il canto Il giovane è stato picchiato e rapinato di pochi spiccioli Molte le attestazioni di solidarietà arrivate da ogni parte Da Gallipoli a Otranto per ammirare il Salento Lo sceicco Al Tani Emiro del Qatar E fondatore della rete televisiva Al Jazeera E' sbarcato in Puglia con lo yacht extralusso Catara Lo sceicco ha fatto tappa anche a Brindisi Dove ha voluto salutare un'anziana che lo ospitò nel 1997 Il calciomercato del Lecce si conclude con difesa e attacco rivoluzionati Il DS Meluso Ha inserito nella rosa giallorossa Giocatori di esperienza per affrontare la Serie B Tra cui il terzino Venuti E gli attaccanti Palombi Pettinari E la Mantia Pettinari 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 Pettinari